Registrazione video 1080p da Alcatel One Touch Idol 3 nella versione da 4 pollici e 7 Cambio di luce messo a fuoco anche se siamo verso il tramonto quindi la luce è un po' diversa rispetto al solito Zoom digitale, direi che AOC è un 2x, non penso che si spinga oltre quello Rapido movimento, rapido pan Registrazione video 1080p Alcatel One Touch Idol 3 da 4 pollici e 7